Coach Marinelli, sabato la prima di campionato, comincia l'avventura in Serie B del Forio Basket. Come è andata la preparazione, qual è la condizione della squadra, quali sono le aspettative per questo campionato importante? Sì, un campionato importante, soprattutto alla luce della promozione dell'anno scorso, dove i ragazzi, se non sbaglio, quasi imbattuti per tutta l'intera stagione, hanno davvero fatto un'ottima cosa, quella di portare Forio in Serie B. Poi per l'indispondibilità di Coach Jovino, io da solo una settimana sono qui e ho preso le sue dieci. Quindi devo ringraziare innanzitutto la società per aver pensato a me, per avermi chiamato. Di conseguenza, diciamo, ho trovato la squadra, siamo un po' indietro a livello di concetti, ma perché poi alla fine i ragazzi più che altro hanno avuto difficoltà anche a fare il 5 contro 5, tant'è vero che sono da appena tre giorni, siamo riusciti o stiamo riuscendo a fare un po' di mercato con i giocatori rimasti e quindi ci sta dando la possibilità comunque di allenarci in 10-11 ragazzi. Io penso che alla fine quest'anno le aspettative sono quelle di una salvezza tranquilla, quello sicuramente con l'ospicio che comunque la società possa organizzarsi al meglio, soprattutto in vista del futuro. Quindi voglio dire una salvezza, dobbiamo fare dei passi avanti, ora sicuramente dobbiamo accelerare un po' con i ritmi, visto che sono un po' indietro di condizione. Lei è pugliese, per la prima volta viene sull'isola d'Ischia e per un impegno professionale. Come ha trovato l'isola? Le piace? Può essere un'arma in più, anche per la squadra, avere un ambiente, un habitat come quello isolano? Io vengo da una regione che è molto bella e turistica come la campagna, però non c'ero mai stato ad Ischia, a Forio, nella fattispecie, devo dire che è davvero, davvero bella. Quindi sono molto contento di allenare qui ed anche con i ragazzi penso che apprezzano sicuramente questo posto suggestivo. Quindi secondo me questa può essere un'isola felice anche per i prossimi anni se ha la capacità di organizzarsi al meglio, perché secondo me i giocatori avrebbero davvero voglia di passare qui l'anno a giocare per il basket Forio Ischia.